Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti per una perdita di carico avvenuta tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, segnalato poi personale su strada tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici in direzione Bologna. Rallentamenti anche sulla statale 62 della Cisa per un senso unico alternato nel tratto compreso tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata in direzione Siena tra San Casciano Nord e San Casciano Sud e tra Tavarnelle e Sandonato. Sulla statale un'aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra l'incrocio di Rio Torto e quello di Venturina in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!